ci troviamo davanti a una situazione o soluzione per la cinematografia diciamo di grande qualità che grazie alla colorimetria e alla particolare resa del sensore dell'SL che offre un tipo di plasticità veramente rara nel mondo dei sensori a cui si aggiunge anche quello che è qualcosa di magico per quanto riguarda le ottiche, le ottiche Leica Samilax M in allestimento cinematografico per cui l'abbinata, camera SL e ottiche M08 offrono una cinematografia di rara bellezza e anche di straordinaria plasticità e tridimensionalità io sono rimasto veramente esterefatto dalla qualità che si riesce a ottenere da questa abbinata e poi noi abbiamo anche realizzato in lock circle un matbox che sfrutta la particolare caratteristica di essere scorrevole sulle canette attraverso dei cuscinetti e permette di accompagnare anche il movimento del barilotto delle ottiche diciamo di derivazione fotografica valuta cinematografico l'insieme è un oggetto molto compatto, molto potente e stiamo osservando che è molto usato anche in Stati Uniti come camera C nelle produzioni cinematografiche grazie alla particolare colorimetria che si matcha benissimo con le macchine Ari Alexa perché è una delle camere che a parte una leggera differenza di latitudine è quella che si avvicina di più in assoluto alle macchine da produzione cinematografica diciamo di alto costo la gamma di ottiche naturalmente leica è disponibile anche con attacco PL mount le classiche Sammicron C o le Samilax C che permettono di montare grazie al mount SL che si integra completamente con il nostro cage attraverso un blocco meccanico creando una macchina autenticamente PL mount e permette di usare le ottiche del grande cinema sulla camera Lake SL naturalmente il matte box si monta anche su questa ottica tutti gli accessori sono compatibili tra le due linee di ottiche e permette di costruire una binata cinematografica di alto livello che diventa interessante per film maker scuole di cinema ma anche per produzioni di documentari video musicali ma anche per la classica cinematografia noi stiamo lavorando in collaborazione con un regista messicano che sta girando in questo momento un film per il cinema con due Lake SL con PL mount e usa le ottiche Sammicron C per cui è una macchina che poi abbiamo notato che viene usata l'hanno usata anche su House of Cards, l'hanno usata su grandi spot tipo Nespresso l'hanno usata in tantissimi lavori che noi raccogliamo informazioni ai nostri clienti perché questo tipo di prodotto è a destinazione internazionale questa è la classica linea Samilax M, asferica per cui estremamente in pruva rispetto alla classica linea diciamo storica della Laica naturalmente qui abbiamo elementi asferici anomali abbiamo elementi flottanti che permettono di ottimizzare la resa l'intera escursione del fuoco questo è importantissimo proprio perché chi fa cinema usa sempre l'escursione del fuoco perché il follow focus che si fa normalmente su un soggetto permette di avere a ogni distanza e ogni inquadratura la stessa incredibile resa ottica cosa possiamo dire di queste ottiche? la particolarissima resa del bokeh non è parallelo al piano focale come gran parte delle ottiche diciamo tutte le ottiche queste hanno la particolarissima caratteristica di avere un bokeh sferoidale per cui il bokeh avvolge la scena posteriore del soggetto spingendo in avanti la scena messa a fuoco dando un'incredibile resa tridimensionale per cui vi invito a guardare con attenzione cosa restituisce questa serie di ottiche su un'immagine digitale siamo davanti a qualcosa di straordinario, unico e per cui questo diventa anche un'ottica interessante con l'attacco M che con i diversi adattatori può andare su l'AXL, può andare su Sony E-mount Panasonic, micro 4 terzi e tante X-mount Fuji per cui permette al fotografo, filmmaker o del filmmaker che fa anche fotografie di avere un corredo ottiche unico e straordinario sia per utilizzo fotografico che cinematografico la linea di ottiche va dal 21 mm e si evolverà anche attraverso altre focali oltre al 24, 28, 35, 50, Noctilux, tutte 1.4, a parte Noctilux che è 0.95 altre ottiche si affaceranno nei prossimi mesi sicuramente la cosa più interessante che questi ultimi 30 anni sono un'immagine fotografica e cinematografica Grazie a tutti